Alcuni si scandalizzano quando sentono che il regno dei Cieli lo conquistano, i violenti. Per scoprire cosa significa in realtà questo messaggio di Cristo andiamo a leggere la pagina 185, Nuovi Asceti Contemporanei del Monte Athos, dell'Archivan dei Taccherubin, la via della pienezza spirituale. Il regno di Dio si conquista con la violenza e il violento se l'impossessa con forza. Padre Filarete ha digerito bene questa verità, che proviene dalle sincere labbra del nostro Signore. Egli era un monaco violento. L'ero monaco è con lui che combatte continuamente la propria natura, ed è ininterrottamente il guardiano dei propri sensi. Questa violenza contro se stesso consisteva nell'esilio, vita monastica, ma è la povertà volontaria, nel digiuno, nella temperanza, nel silenzio e nel sottomettere il corpo ai lavori pesanti. Quante volte invece oggi noi preferiamo non l'esilio ma la vita insieme agli altri in mezzo al chiascio, la ricchezza volontaria, non la povertà, induzzarsi, altro che digiuno e temperanza, bere a più non posso, il rumore invece per il silenzio, e non lavori pesanti ma lavori leggeri, siamo così vericati. Ebbene, padre fidarete, non tralasciò mai i suoi doveri monastici. Ogni anno eseguiva il solito trimero, il digiuno completo sia dai cibi che dall'acqua, per tre giorni consecutivi, all'inizio della grande quaresima. Una volta al termine il trimero, disse, ho le forze per continuare il digiuno per altri tre giorni. Dal momento in cui entrò nella santa montagna, il monte Athos, l'arena degli atleti di Cristo, e afferrò l'aratro e l'ordine monastico, non si voltò indietro. Ecco, questo è molto importante per noi, mai voltarsi indietro. Gesù dice che pone mano all'aratro, ma poi si volge indietro, non è adatto al regno dei cieli. Non si commiserò. Quante volte noi ci commiseriamo. Ah, povero me! Quante sofferenze! E ci si dà piacere. Chi si dà i piaceri, chi si allontana da Cristo. Per amore a Cristo, padre filarete si esiliò da tutti i parenti e amici. Questi lo invitarono al villaggio. Sua madre riscrisse con lacrime e suppliche di portarle gli immacolati misteri prima della sua morte. Il padre, consigliandosi in ogni cosa con il suo confessore, non volle saperne di allontanarsi dalla santa montagna. Aveva anche un fratello naturale di nome Tommaso, che si recava due o tre volte all'anno la santa montagna, il quale gli disse, ma resti al villaggio solo per una volta, a celebrare la liturgia per noi. Ci hai dimenticati completamente? Il suo scopo era quello di averlo come sacerdote nel suo villaggio. Ma qualora questa fosse stata la volontà di Dio, sarebbe stato il suo padre spirituale a comunicargliela, e non il fratello di sangue. Tommaso, tuttavia, ricevette la risposta dal proto-martire e guardiano del santo monastero, che era amico e soccorritore di padre filarete. Una notte Tommaso, mentre stava dormendo nel monastero, apparve improvvisamente Santo Stefano, severo e implacabile. Indrato, che non sei altro, gli disse. Non ti basta essere venuto a trovare tuo fratello. Ora vuoi anche portarlo al tuo villaggio? Tommaso si svegliò terrorizzato dalla visione del santo, che lo aveva atterrito. Come avrebbe potuto ancora pensare a una tale richiesta? Il sempre memorabile anziano era assiduo nei suoi doveri spirituali. Perciò quando un'unica ai suoi figli diceva, padri e fratelli, adempiamo i doveri spirituali, e la divina providenza si prenderà cura dei nostri bisogni materiali. Quante volte, fratelli, noi pensiamo prima ai beni materiali e poi a beni spirituali. Proprio il contrario di quello che dice padre filarete. L'amore compassionevole di Dio non ci abbandona, avendo lui rinunciato al mondo e alle cose del mondo, per amore suo. Egli ci sfamerà. Non ha forse detto, cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ma non fu un solo dirigente, ma il sia anche preciso. La sua precisione nella vita monastica era esemplare. Si alzava tutte le notti a mezzanotte per compiere la sua regola. A mezzanotte mi alzerò, come dice il Salmo. Questo versetto di Davide echeggiava in lui. La sua cella era semplice, ascetica, cenovitica. Non vi era né zucchero, né caffè, o altro cibo, come altri fratelli che li avevano per concessione. Un piccolo sgabello, che usava per la preghiera mentale, si trasformò in una scala del paradiso, dalla quale scendeva Dio, e che portava l'amante della virtù e del silenzio in cielo. Quando ricevette l'investitura come ibumeno, i padri vogliono vedere la sua cella. Non appena entrarono, rimasero meravigliati e senza parole. Videro quattro nude pareti. Il suo letto era composto da tavole con il materasso e una copertura di lana di capra, confezionata con quei duri sacchi nei quali vengono raccolte le olive. Vi era un cuscino riempito di alba secca e una coperta. Egli stesso, molto umilmente, scopava o accendeva le lampade o faceva altri umili lavori. Fuggiva a linguaggi oziosi, mondani o politici, e neppure voleva vedere i giornali. Si ecclissava. Non era mai indiscreto nel parlare. Quando gli si parlava, essendo timido, abbassava sempre gli occhi. Il suo sguardo non fissava mai gli uomini. Ma Dio! Era temperante in tutto. Un guardiano dei sensi, sempre attento. La sua modestia e timidezza ispiravano una profonda riverenza. Quando l'inverno è rigido, la neve rimane per 15 o 20 giorni al monastero, li constamoni tu. Tutti i padri hanno la stufa nella loro cella, mentre l'anziano non l'aveva. Padre Nifone, il responsabile della cucina, gli disse con rivenenza e amore, Padre mio, dobbiamo mettere anche nella tua cella una stufa. Lascia, lascia pure che rimanga così, anziano Nifone. Non faremo più avanti. Disse questo nell'attesa che terminasse la fredda stagione, propraendone sempre la messa in opera. Lasciò che si portasse la stufa solo due o tre anni prima di morire. Aprendo la sua porta, non lo si sarebbe mai trovato nel modo più assoluto a fare altro lavoro nella sua cella eccetto che pregare in ginocchio. E questo lottatore era il benedetto, come pure era un modello belligionare. Una volta padre Eutimio, che nel mondo era stato contadino e pastore e al quale vennero sempre dati incarichi pesanti, gli disse, anziano, non mi spaventa il lavoro purché possa mangiare bene. Il corpo, figlio mio, gli rispose l'anziano, non teme il lavoro, teme il digiuno. Quando ormai aveva superato i settant'anni, il sempre memorabile si recò con un fratello a Caries, che si trovava a circa tre ore da costa a Monitu. Presero con loro un muro, ma lui non poteva salirvi. Strada facendo, saltava sui rami della boscagna con la gioia di un bambino. Fece questo per amore e compassione nei riguardi del muro. Oppure per essere stato abituato agli stenti e alle sofferenze. Evidentemente, per entrambe le ragioni, vive il muro e filosofò. Anche questa è una creatura di Dio, nata per servire e accudire l'uomo. Grande miracolo, e allo stesso tempo corpo morto. Nell'anima di un monaco, con il tempo il sentimento è nato e consolidato. Io venni non per essere servito, ma per servire anche i sordi animali, sopportando gli stenti e i pesi per loro amore. Ecco, guardate che atteggiamento aveva questo padre Filarete. Anche amare gli animali, ma tutto nella prospettiva della vita eterna, non per se stessi. Non era uno che, come oggi fanno tanti, amano più gli animali che gli esseri umani. No! Tutto era per meglio servire Dio, per meglio castigare il proprio corpo, per far crescere l'anima e l'amore di Dio. Bello questo! Noi siamo fatti per Dio, non siamo fatti per essere salviti. Siamo fatti per servire e non per godere. Volremo in paradiso. Questi altri insegnamenti, anche poi c'è il doro della chiaroveggenza che aveva padre Filarete, poi la sua devozione per la Teotocos, la madre di Dio. Ecco, e poi ci sono tante bellissime, bellissime parole che lui diceva che sono state raccolte in questo bellissimo libro Nuovi Asceti Contemporanei del Monte Athos. Vedete, padre Filarete, non è un santo lontano da noi, è un santo dei nostri giorni. Noi ne abbiamo tanto bisogno, perché crediamo che la santità sia ormai riservata tra i tempi passati. Quando tutto era diverso, non c'è niente di diverso. L'uomo è sempre uguale. L'uomo decidera mangiare, godere, avere soddisfazioni. Ma quando incontra il Signore, allora può fare questo salto e l'incontro con Dio che ti dà tutto, ti fa capire che tutto il resto è niente. Grazie.